Bentornati su Nomamamazzo e bentornati nella rubrica film in uscita e nella rubrica Marvel. Come potete intuire dalla mia maglietta, lo so, avevo detto che non avrei più messo le magliette in sintonia con i video che facevo, ma non riesco a resistere per questa volta, parlerò di Guardiani della Galassia Volume 3. Sono in ritardo assoluto, ne hanno già parlato tutti, cosa posso dire di più che non hanno già detto gli altri? Niente, quindi basta, il video è finito, io me ne vado. Ma no, scherzavo, sono ancora qua. Allora, vi dico la mia opinione, vi dico i sentimenti che mi ha generato Guardiani della Galassia, ma no, anche quelli li sapete perché li avete provati anche voi. Vi dico dove mi ha generato i sentimenti migliori. Mi ha emozionato, dove ho notato le cose più belle che il regista James Gunn ha dato a questa saga. Nominerò spesso il regista James Gunn, ma perché lo nomino rispetto magari ad altri film dove non parlo del regista? Perché questo è uno dei film più autoriali, se non forse il più autoriale, intendo tutta la saga ovviamente, che può avere il Marvel Cinematic Universe. Perché, per esempio, persino Sam Raimi, e non dico il Sam Raimi di Multiverse of Madness, che onestamente non classifico come un film di Raimi a tutti gli effetti, perché lì si sente pesantemente l'influenza della Major, ma anche lo Spider-Man di Sam Raimi, per quanto sia un film autoriale per la regia di Sam Raimi, non è tanto autoriale quanto i Guardiani della Galassia di James Gunn, perché James Gunn è prima di tutto uno sceneggiatore, prima di tutto lui scrive la storia e poi gli dà vita, ed è questo l'elemento fondamentale per la buona riuscita del prodotto. James Gunn ci mette il cuore, dall'inizio alla fine. Lo abbiamo capito, o meglio, io l'ho capito, magari voi non seguite tanto la DC Comics, anche quando ha preso le redini di The Suicide Squad, che purtroppo non ha avuto il successo che meritava, perché rispetto al primo film di David Ayer c'è una firma di Gunn molto potente, molto accentuata, molto più accentuata anche rispetto ai Guardiani della Galassia. Da quel The Suicide Squad fantastico, che adesso è su Netflix e ve lo consiglio, hanno creato la serie Peacemaker, che se non sbaglio è su Team Vision, che è un gradino superiore ancora alla The Suicide Squad di Gunn, e dopo tutto questo, sapete perché Gunn se n'era andato dalla Disney, perché è tornato, se non lo sapete ve lo metto qua nei commenti, chiedetemelo, se no non sto a scriverlo per nulla. Gunn è tornato in Marvel e ha fatto tesoro dell'esperienza fatta con dei film dove gli davano assoluta libertà e qui ha fatto un pochino di più il cazzo che voleva. Tant'è che il film medesimo risente anche un pochino dell'esperienza in DC Comics. In DC Comics, in The Suicide Squad, c'era Starro, questa enorme stella gigante, molto viscida vista da vicino. Qui abbiamo un pianeta vivente che ricorda molto questo viscidume. Se non ci avete fatto caso, fateci caso. Tutti questi sono strizzatine d'occhio all'universo, diciamo, chiamiamolo così, di James Gunn. Così come James Gunn ci tiene anche a portare gli attori che ha avuto in esperienze passate anche negli altri film, un po' come se avesse una sua compagnia teatrale. E questa è una cosa che faceva anche Joss Whedon e che io apprezzavo molto. E l'apprezzo ancora di più in Gunn, proprio per il motivo che ho sovracitato, ovvero per il fatto che è anche uno sceneggiatore. Anche Joss Whedon è sceneggiatore, oltre che regista, ci tengo a dirlo, anche di fumetti. Adesso c'è questa demonizzazione di Joss Whedon, ma io ci tengo a difendere il suo lato professionale perché è sempre stato artisticamente molto molto interessante. E artisticamente ha guidato gli Avengers dall'inizio, poi gli hanno presi in mano i Russo, ma era Whedon che ha creato il famoso piano sequenza tipici della sua regia. Ma andiamo a parlare proprio di questo film. Allora, questo film ha saputo tenerci incollato allo schermo fin dal trailer, perché fin dal trailer abbiamo avuto paura che qualcuno ci lasciasse le penne. Ovviamente la recensione è totalmente spoiler, sono passati... è passato quasi un mese, non lo so, da quando è uscito, quindi ragazzi, eh? È una recensione spoiler. Ovviamente avevamo paura fin dal trailer che qualcuno ci lasciasse le penne, dal discorso di Rocket sul cielo bellissimo, che poi abbiamo scoperto essere un giovane Rocket in un flashback a dire questa frase, e non un Rocket morente. Però c'era anche il volto di Peter Quill che urlava con la saliva che si vedeva in primo piano, questo urlo sgraziato che accentuava, come si dice, la realtà della cosa, la verosimiglianza del pericolo della morte di Rocket. Ma c'era anche la scena dove lo stesso Peter Quill era steso in braccio a una fortissima nebula, che poi sappiamo che era un manichino però. Ma in realtà quella scena era una scena iniziale dove Peter Quill era semplicemente ubriaco marcio perché non si dava pace per il fatto che non riusciva a trovare la gamora del futuro alternativo che era rimasta nel... scusate, del passato alternativo che era rimasta nel presente. Con Rocket, durante la visione del film, ci sono stati i seguenti momenti. Appena succede all'inizio è un... ok, muore, come temevamo tutti all'inizio del film. Muore e durante tutto il film vediamo appunto la sua storia. Poi quando ho visto che ci stava mettendo un po' a morire, che fondamentalmente era sotto i ferri, diciamo, era tenuto in vita dalle macchine e vedevamo la sua storia, ho pensato non muore, è impossibile che muoia se non alla fine, dopo innumerevoli sforzi, è strano che muoia. Ho detto, probabilmente muore qualcun altro cercando di salvare Rocket. Poi quando c'è stata la scena con Laila, molto simile a quella che abbiamo visto in Deadpool 2, quella con desaturazione massima, illuminazione massima, ho detto che in Paradiso muore di nuovo. Questa volta muore davvero, incontra Laila e i suoi vecchi amici. E poi invece c'è stata una conclusione finale, ho fatto parci con me stesso, ho detto, ok no, non può morire perché deve chiudere la faccenda con l'alto evoluzionario, deve chiuderla lui, questa faccenda, deve ucciderlo lui, tra virgolette, perché poi non l'ha ucciso, però deve fare un passo morale per chiudere il suo percorso e può farlo solo se resta in vita. Parlando sempre di Toto Morti, ho temuto molto per Nebula, che è stato il personaggio senza dubbio più approfondito, forse il personaggio su cui gira attorno di più la trama, e proprio per questo ho temuto che fosse lei a lasciarci le pene, che ci facessero affezionare molto di più a Nebula per poi ammazzarla. Invece devo dire che è semplicemente stato la conclusione e l'esplorazione del suo arco narrativo, del suo arco di crescita, rispetto agli altri che invece avevamo visto magari di più negli altri film, che è stato forse uno degli archi di crescita più belli mai creati da James Gunn. che ha collimato con il pianto finale, il pianto liberatorio, quando Nebula sente la voce di Rocket e capisce che è vivo, che è di nuovo cosciente. Quel pianto è stato uno dei pianti che ha accompagnato un pochino anche i nostri pianti. Questo è stato uno degli più alti momenti di Nebula, insieme all'altro momento in cui ha riconosciuto la fine dell'arco narrativo di un altro personaggio, ovvero la fine dell'arco di crescita del personaggio di Drax, che io pensavo concludesse il suo arco di crescita come personaggio con un nuovo amore. Drax, lo sappiamo, è un vedovo, si è unito ai Guardiani della Galassia per vendetta contro Ronan e poi contro Thanos, perché gli è stata sterminata la famiglia. Quindi io mi aspettavo che dalla moglie che ha perduto incontrasse un nuovo amore, che poteva essere Mantis, che aveva conosciuto nel 2 e che disprezzava fisicamente, ma poteva essere appunto un disprezzo che portava invece all'amore. E invece è rimasta una bellissima amicizia, o comunque un bellissimo rapporto platonico, e la storia di Drax è invece collimata nell'altra sua mancanza che è stata tamponata, che è stata conclusa, ovvero i figli. Come dice Nebula, Drax è nato per essere un padre. E vediamo appunto quanto è affettuoso con queste ultime creazioni dell'alto evoluzionario. Il punto più alto di Drax è che per i suoi bambini, per i suoi nuovi bambini, chiamiamoli così, persino lui si è messo a ballare. Drax, che non ha mai ballato su sua stessa missione, si è scatenato per far ridere i suoi bambini. Uno dei motivi per cui ci ho messo tanto a fare questa recensione è che non ero del tutto sicuro delle sensazioni che questo film mi aveva dato, anche alla luce del fatto che comunque l'ho visto qualche giorno dopo l'anteprima, e ho percepito le sensazioni di chi l'aveva visto prima di me, mi aspettavo che questo film mi devastasse da ogni punto di vista, e invece mi ha lasciato delle sensazioni anche dolci amare, che non riuscivo a capire. Forse sono arrivato ad ammettere, finalmente, per poterlo dire a voi, che quello che è più bello di questo film è anche la cosa che un po' mi è piaciuta meno, ovvero la storia di Rocket, la storia delle origini di Rocket, per quanto tutti la volessimo morbosamente, è anche quella che spezza di più il ritmo del film, che comunque ha una durata di due ore e mezza, quindi già è lungo di per sé. E per quanto sia il collante di questo film, per quanto sia necessaria alla trama principale, questa sottotrama delle origini di Rocket, perché noi potessimo apprezzare molto di più appunto la trama principale, è evidente che è un film dentro al film, ed è questo continuo altalenarsi tra i flashback su Rocket e la storia presente, che ha spezzato appunto, a mio gusto, ha spezzato un pochino il ritmo del film, e soprattutto ha reso il film totalmente diverso dal ritmo dei film precedenti, di fatto spezzando un pochino la trilogia, se così vogliamo. Come se James Gunn non avesse in realtà finito con i Guardiani della Galassia con un solo film, è come se James Gunn avrebbe voluto, avesse voluto raccontarci ancora per altri due film la storia dei Guardiani, con Guardiani 3 e Guardiani 4, magari mi aspettavo un Guardiani 3 con tutta la trama di Adam Warlock, magari un po' più approfondita, e i primi spunti, i primi flashback sulla nascita di Rocket, e poi un film, un quarto e ultimo film, con l'alto evoluzionario e la vendetta, diciamo, di un Rocket che si è guarito appunto dalle ferite subite, riesce appunto a trovare pace, vendicandosi però dell'alto evoluzionario. Sembra che abbiano messo due film in uno, data anche la durata, forse perché Gunn appunto è impegnato sì con la DC, ma soprattutto penso che volesse levarsi dalle palle dalla Marvel dopo il brutto trattamento che gli avevano dato. Parlando dell'alto evoluzionario, interpretato da, leggo perché per me è molto difficile questa pronuncia, da Chukwudi Iwugi, che è stato straordinario, come d'altronde è stato straordinario tutto questo film, è stato sicuramente tre spanne sopra alla media dei film Marvel in generale, è stato dieci spanne sopra alla media dei film Marvel attuali, che ormai sono scritti praticamente da un algoritmo, che sono vuoti, che sono privi di anima, sono fatti solo per incassare denaro, senza pensare che i film devono raccontare qualcosa che ti deve coinvolgere. Ed è qui invece dove Gunn riesce, è qui dove Gunn riuscirà anche nel nuovo DC Studios. Tornando a Chukwudi Iwugi, dicevo è stato straordinario, è stato un cattivo della Madonna, sopra le righe, eppure è stato credibile. Lo avevo già apprezzato anche questo in Peacemaker, come ho detto prima, James Gunn ci tiene a utilizzare la sua compagnia teatrale per altri progetti. Però in Peacemaker comunque aveva un ruolo diverso, dove non ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità. Qui ha davvero, ci ha fatto vedere quanto è bravo questo attore. Anche la sua raccapricciante maschera, che si poteva intuire dopo il flashback su quello che gli aveva fatto Rocket, si poteva intuire che fosse una maschera per coprire il suo volto deturpato, dato che è un personaggio che vuole la perfezione a tutti i costi. Per quanto fosse raccapricciante da vedere, la maschera era perfettamente inserita nella trama. E devo dire che non pensavo che James Gunn ci mostrasse un volto così deturpato, ma è stata una delle poche volte che l'orrore ha lasciato presto spazio anche al senso di giustizia per quello che Rocket gli ha fatto. Una piccola vendetta per l'uccisione di quei poveri animali innocenti. I personaggi un po' più deboli invece in questo film sono Groot, che è appunto il muscolo, uno dei muscoli insieme a Drax della squadra. Tra l'altro c'è una scena in cui Nebula, che a tutti gli effetti ormai comanda i guardiani, dice a Groot, a tutto kaiju, e Groot si ingrandisce, diventa altissimo, diventando appunto un kaiju, citando l'altro kaiju del film di Gano, ovvero Starro. Però appunto, a parte essere il braccio armato della squadra, non è molto approfondito, è stato approfondito nel primo film, abbiamo visto la sua crescita nel secondo, e in Infinity War non era necessario andare oltre con Groot, ed è giusto così. Ma quello che mi ha stupito di più, ma onestamente non ne ho sentito la mancanza, il personaggio meno approfondito è proprio il protagonista, quello che dovrebbe essere il protagonista umano. Peter Quill, Star-Lord, Chris Pratt, perché comunque l'arco di crescita di questo personaggio è concluso, non ha più nulla da dirci. L'arco di crescita di questo personaggio era composto dal conoscere le sue origini aliene, e l'abbiamo visto in modo molto approfondito nel secondo, l'abbiamo visto accettarle, disconoscerle e agganciarsi al suo lato umano. E l'altra sua grossa trama era appunto il percorso di amore con Gamora, che se ci eravamo lasciati a Guardiani della Galassia 2 con un non detto, è stato poi subito velocizzato a un ti amo in Infinity War, quindi diciamo che nel frattempo c'è stato qualcosa off-screen che noi non abbiamo visto, o che James Gunn non ci ha potuto raccontare per esigenze della macro trama del Marvel Cinematic Universe. Quindi James Gunn fondamentalmente si era anche magari stufato di parlare di Star-Lord e Gamora, dato che comunque gli avevano preso questi personaggi e ci avevano fatto... gli avevano dato un'accelerata per esigenze di Endgame e di Infinity War, e quindi dice perché devo approfondire l'amore di Peter Quill e Gamora, che comunque l'avevamo già visto sbocciare in qualche modo in altri film. E poi, soprattutto, questa è un'altra Gamora, avremmo dovuto rivedere tutto da capo, sarebbe stato noioso. Invece no, James Gunn ha preso Gamora e l'ha piazzata tra i Ravagers, che sono tra parentesi i Ravagers. La formazione di Ravagers che abbiamo visto, quella con Sylvester Stallone ed altri, dovrebbe essere una delle prime formazioni dei Guardiani della Galassia dei Fumetti, quindi è come se Gamora fosse in un'altra squadra, se così vogliamo dire. E Nebula sapeva tutto, perché comunque Gamora e Nebula erano rimasti in buoni rapporti essendo sorelle. L'unica trama che invece su Peter Quill non avevano più approfondito, e che io speravo davvero che approfondissero dopo che ho rivisto Guardiani della Galassia volume 1 e 2 prima di andare al cinema, era la trama con suo nonno, perché se non ci avete fatto caso, in Guardiani della Galassia volume 2, quando queste, diciamo, piante di ego si espandono per tutti i pianeti, quella che si espande in Missuri, dove appunto viveva Quill e sua madre, alza un pick-up, alza un'auto che sta cercando di fuggire appunto da questa devastazione. Dentro l'auto c'è proprio il nonno di Quill, quindi James Gunn ci ha tenuto a richiamare l'attore per farci vedere che era ancora vivo. E quando ho rivisto questo pezzo ho detto vedrai che James Gunn vorrà trattare questo argomento nel terzo film, vorrà chiudere Peter Quill con il suo lignaggio terrestre, però temevo che per esigenze di tempo o di Disney non lo facessero, invece hanno portato Peter Quill sulla Terra a riabbracciare il nonno. E questa è forse stata la conclusione migliore per questo personaggio. Un terrestre che diceva a tutti di essere metà terrestre, ma che non era mai effettivamente tornato sulla Terra dopo la morte della madre. La Terra era il luogo dove la madre era morta, fondamentalmente. Abbiamo visto Peter Quill elaborare il lutto in ogni film. Nel primo film ha elaborato il lutto della madre scartando l'altra cassetta che gli aveva regalato. Nel secondo film ha dovuto elaborare anche il lutto del suo padre putativo, ovvero Yondu, per poi concludere appunto la sua elaborazione del lutto tornando alle origini, tornando dal papà di sua madre. E ora per concludere una rapida carrellata con delle foto che metterò, cercherò di stare centrale, metterò a destra e a sinistra, tutti gli attori che James Gunn ha usato in Guardiani della Galassia volume 3 o in altri episodi e che abbiamo anche visto in altre sue opere. Ovviamente quelli che io ho notato non sono il primo a fare sto video, ce ne sono già molti che girano su internet, però ci tenevo comunque a parlarne perché mi piacciono entrambi i prodotti, entrambi i mondi che sta curando ora James Gunn. Ovviamente cominciamo con Sean Gunn, che appunto è un altro personaggio della squadra di cui non ho parlato, che è Kraglin, che ha un suo percorso di crescita, anche lui con Yondu, ma che secondo me era un po' ridondante, l'abbiamo già visto nel finale di Guardiani della Galassia volume 2, però va bene. Sean Gunn è l'attore feticcio di James Gunn, lo usa un po' in tutti i suoi film e lo abbiamo visto anche in The Suicide Squad interpretare sia in CGI Weasel, perché vi ricordo che in CGI Sean Gunn interpretava anche Rocket, non era presente Bradley Cooper fisicamente nella tutina verde, ma c'era qualcuno nella tutina verde a interpretare Rocket ed era Sean Gunn. Sean Gunn interpretava Kraglin e Rocket nei Guardiani della Galassia e ha interpretato Weasel, ma anche Calendar Man in The Suicide Squad. E poi abbiamo Pond Clementeith, spero di averla pronunciata giusta, che ovviamente è Mantis e che in The Suicide Squad fa un piccolo cameo, fa una ballerina cantante in quel locale malfamato del Sud America, dove la Suicide Squad si ferma per cercare The Thinker. Come già detto, Chu Woody Iwugi interpreta appunto il capo della squadra di Peacemaker nella serie tv omonima Peacemaker e interpreta l'alto evoluzionario. Sylvester Stallone, che appunto è Staccar Ogorda, uno dei primi, se non sbaglio, Guardiani della Galassia del fumetto che abbiamo visto da Guardiani 2, dà la voce a King Shark nel film The Suicide Squad, ovviamente in originale, dovete vederlo. Michael Rooker, un altro attore feticcio di James Gunn, ovviamente in questo film assente perché il suo personaggio è morto, in realtà si vede in un piccolo cameo. Michael Rooker interpreta Yondu nei Guardiani della Galassia, ma ha interpretato anche un personaggio che onestamente mi sfugge, vi metto qua magari una didascalia, ma è uno dei primi che muore in The Suicide Squad, è quello che inizialmente uccide l'uccellino con una pallina. Abbiamo Nathan Philon, che ha avuto un'ottima, interessantissima parte in questo Guardiani della Galassia volume 3, che è stato uno dei guardiani di quel pianeta organico, e che in The Suicide Squad ha interpretato The Detachable Kid, uno della prima The Suicide Squad che vediamo all'inizio nella fantastica scena sulla spiaggia. Dulcis in fundo, perché adoro questa nuovissima, giovanissima attrice, Daniela Melchior, o Melchiorra, non so dove cada l'accento, che ha interpretato Ratcatcher 2 in The Suicide Squad, in una scena finale che davvero mi commuove ogni volta, che vi consiglio di nuovo di vedere quel film, ha fatto una piccola parte in Guardiani della Galassia, è stata Ura. Se notate James Gunn ha messo un sacco di alieni dalla pelle rosa confetto. Fin dal primo film, probabilmente c'è questa specie aliena a cui James Gunn tiene particolarmente a inserire per identificarla come umanoide. Quasi dimenticavo, c'è anche la bellissima moglie di James Gunn, che Gunn ha conosciuto sul set di The Suicide Squad, che è Jennifer Holland, che ha fatto in The Suicide Squad e Peacemaker la parte di Hutter Court, se non sbaglio si pronuncia così il cognome del personaggio, e che nel film di James Gunn ha comunque interpretato una piccola parte sempre in quel pianeta organico dove James Gunn ha ficcato il più possibile gli attori di The Suicide Squad. Questo personaggio in realtà non c'entra con James Gunn, ma ve lo faccio comunque notare. Linda Cardellini, che è con lei che interpreta la moglie di Occhio di Falco, che è la famosa velma del film Scooby-Doo, ha dato anche la voce a Laila, la piccola Lontra con cui stava nascendo un fantastico rapporto di amicizio, non lo so, qualcosa di più, con Rocket. Nei fumetti Laila è l'anima gemella di Rocket. La cosa curiosa per noi italiani è che il doppiatore di Rocket è anche il doppiatore di Occhio di Falco. Non so se hanno usato la stessa doppiatrice di Linda Cardellini sia per i film con Occhio di Falco sia per Laila, ma è molto carina questa cosa, involontaria ovviamente, però manco a farlo apposta. La moglie di Occhio di Falco ha doppiato Laila e il doppiatore di Occhio di Falco doppia anche Rocket, Christian Jansante, che adoro sempre nei suoi doppiaggi. Sicuramente ci sono anche altre cose che mi sono sfuggite, se voi le avete notate scrivetemele qua sotto, altrimenti limitatevi a scrivermi qua sotto qual è la scena che vi ha emozionato di più e se vi piace questo stile di Gunny io credo che ero molto sicuro di quello che andavo a vedere, sapevo che era una spanna sopra gli altri e sono andato a vedere questo film davvero non perché è un film del Marvel Cinematic Universe ma perché volevo vedere davvero la conclusione della trilogia dei Guardiani. I Guardiani potevano essere anche un film indipendente di questa squadra spaziale sconclusionata sarei andato a vederlo sicuramente con più hype di qualunque prodotto Marvel attuale e credo che guarderò con lo stesso entusiasmo tutti i prodotti di Gunn che farà da adesso in poi. Io come sempre vi ringrazio per avermi sopportato fino alla fine di questo video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video dove si tornerà a parlare di fumetti, voglio parlare del Color Fest, voglio dare il benvenuto ufficiale in un video YouTube a Barbara Baraldi per la curatela di Dilan Dog poi parleremo di Kalia non appena leggerò anche quello e poi spero di recuperare Tartarughe Ninja dato che dovrebbero finalmente aver ristampato il 59 che aveva un errore e poi dovrebbe essere uscito anche il 60. Grazie ancora e arrivederci.